Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Benedetta Rossi, oltre ad essere una bravissima conduttrice e cuoca, è anche una persona che ha una bellissima famiglia a cui tiene moltissimo. Ella è sposata con Marco Gentili. L'uomo lavora con lei e gestisce in particolar modo i social della Rossi, nonché tutta la parte relativa alla comunicazione. Insomma, Marco svolge un lavoro molto importante per l'immagine di Benedetta Rossi. All'inizio, quando Benedetta cominciò a riprendere i video da pubblicare sui social egli faceva anche da cameraman. Adesso invece, come detto, si occupa solo della parte relativa alla comunicazione e ai social. In alcune pubblicità che riguardano Benedetta Rossi e alcuni suoi programmi anche il marito è presente. Con lui nel corso degli anni la Rossi ha costruito non solo un bellissimo rapporto di coppia ma anche professionale. I due si amano moltissimo e la stima che hanno uno per l'altra è fortissima. Ma forse nessuno si aspettava una notizia che è arrivata da poco in redazione. Benedetta Rossi sta infatti per diventare mamma. Non pensiate ovviamente che Benedetta stia aspettando un bambino all'età di 51 anni ma sta per diventare madre riguardo un altro aspetto. Dal 28 settembre prossimo andrà in onda infatti Fatto in casa per voi, che è come si sa lo storico format da lei condotto. E prima di tornare al lavoro pare che Benedetta si sia concessa una vacanza negli Stati Uniti d'America assieme a suo marito. I due sono carichi quindi per la nuova stagione. E sì, Benedetta Rossi è ormai la mamma del programma in questione, che come sempre siamo sicuri avrà un grande successo.